Grazie a tutti. Abbiamo fatto la capofila per fare una cosa del genere, giustamente ci voleva un'associazione di volontariato che facesse la capofila per organizzare il tutto. Lei seguirà la colonna di aiuti? Sì, ormai come volontario mi sono offerto anch'io. Per dare una mano anche in questa traversata della solidarietà? Sì, un pochino, per fare anche un po' l'assistenza, si spera che ci sia bisogno. I camion si sono ritrovati nel parcheggio del cementificio di Castelfocognano per caricare le derrate alimentari e partire per la Sardegna. Sì, abbiamo un ottimo rapporto con la misericordia di Talla, lavorando con loro da diverso tempo e questa parte è una cosa molto molto diversa e molto molto più importante. Comunque siamo lieti di ospitare tranquillamente i camion perché è per un'opera veramente veramente importante. Gli aiuti andranno ad un allevatore della provincia di Oristano che a causa degli incendi che hanno duramente colpito la Sardegna in questa estate ha perso tutto. Che ha pensato, che ha provato quando ha visto la sua Sardegna bruciare ancora una volta e così tanto? Mi rincresce il cuore perché ci sono stato e so che cosa vuol dire avere un'azienda bruciata, capito? Quindi questa gente qui è rimasta proprio distrutta e quindi mi è tanto dispiaciuto e quindi tocca proprio aiutarli. Io sardo a di nascita e mio marito figlio di genitori sardo abbiamo contribuito a dare un aiuto comunque alla nostra gente, al nostro popolo e poi perché comunque fare del bene fa sempre bene. Noi siamo nati a Talla, cresciuti a Talla, il nonno aveva un'azienda agricola, dopo l'ha continuata il babbo e dopo l'abbiamo continuata noi. Perché allora decidere di aiutare questi allevatori sardo? Perché in queste situazioni ci si può trovare tutti e bene aiutarsi tra di noi? Ma ci era stato chiesto da un amico del Samuele che è presidente del Carnevale di aiutarli e noi siamo stati, abbiamo fatto questa offerta, contenti di fare l'offerta insomma. Noi avevamo pensato fin da subito quando abbiamo visto i primi aiuti arrivare e appena abbiamo ricevuto la chiamata dalle persone qui del nostro comune ci siamo subito messi a disposizione per poter aiutare i nostri colleghi nel momento del bisogno, per non li lasciare da soli e cercare insomma di poterli, per quello che si può, dargli una mano e stargli vicini.